La Banda Va a Scuola è il titolo del progetto che quest'anno il compresso bandistico Città di Fano ha voluto portare avanti e a cui crede fermamente insieme all'Istituto Padalino e principalmente rivolto alle classi della scuola primaria Luigi Rossi e che prevede appunto l'insegnamento della pratica strumentale all'interno delle scuole. Un progetto che viene comunque anche appoggiato dal Comitato Nazionale per la pratica strumentale nelle scuole e come ripeto a noi preme tanto portarlo avanti. Fondamentalmente si è distinto per una serie di incontri, circa 20 incontri con le classi quinte e quarte della scuola primaria che hanno affrontato un percorso di propedeutica strumentale e con le quinte invece un percorso proprio di pratica strumentale con degli strumenti che grazie all'aiuto e al sostegno delle scuole, della famiglia e di importanti aziende qua della città di Fano siamo riusciti ad acquistare ben oltre 30 strumenti e a cui è stato possibile poi darli in uso ai singoli ragazzini per poter affrontare queste lezioni. L'educazione musicale, il fare musica a scuola è fondamentale, ha una valenza straordinaria perché permettiamo ai nostri alunni lo sviluppo di competenze sociali e relazionali, permette anche lo sviluppo di linguaggi comunicativi anche non verbali, anzi soprattutto non verbali. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto ad iniziare la scuola a Padalino, comprensorio Padalino, la dirigente. I nostri progetti non finiscono qua, quest'anno è il quarantesimo anno di fondazione dell'organizzazione Vallato, la banda proseguirà con il consueto appuntamento dei concerti, novità di quest'anno sarà la partecipazione a Fano Jazz e ci sarà al termine dell'estate, esattamente come tutti gli anni il 27 agosto, un gemellaggio con tutte le bande che sono delle città che sono gemellate con Fano.